Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi voglio mostrarvi una nuova colorazione permanente per chi vuole coprire i capelli bianchi e vuole avere un effetto super naturale. E ho voluto provare questo della Garnier. Io amo moltissimo la Garnier, però non avevo mai provato questo qui, il Bel Colour. Questo qui, innanzitutto ho scelto il colore castano chiaro naturale, poi vedremo anche il risultato insieme. E questo qui è il segreto di un colore naturale luminoso, perché è arricchita con oli di gemi di grano e agenti protettori, poi vedi i tuoi capelli durante la colorazione e ne rispetta le sfumature naturali. Quindi, non hanno anche un colore ricco di riflessi ultraluminosi. Quindi, per chi come me vuole un colore naturale e vuole andare a coprire solo i capelli bianchi, ma non vuole trasformazioni o colori che vanno nel rame, eccetera, penso che questo qui faccio a caso vostro. Penso perché dobbiamo andare a vedere il risultato insieme, e quindi è un trattamento alquanto curioso, diciamo così, curioso. Poi, al 98% di origine naturale, questa cosa a me piace tantissimo, come ogni prodotto che utilizzo sulla mia cavigliatura, sono contentissima di avere il 98% di ingredienti naturali. E, giustamente, andiamo a vedere all'interno cosa c'è. All'interno troviamo, innanzitutto, il pack straordinario, perché mi piace proprio l'effetto dorato, mi dà quella sensazione di luminosità, bellezza. Ok, torniamo a noi. Andiamo a prendere questo flacone all'interno. Il flacone, come ben sapete, c'è quasi sempre. Questo è un flacone latte di villatura, che vi aiuta tantissimo quando andate a miscelare il tutto e andate a posizionare questo sulla cavigliatura per lasciare il prodotto. Vedete? Dopodiché abbiamo la crema colorante, che andiamo a mettere all'interno lì. Come vedete, la crema colorante. Bellissimo, anche questo. C'è scritto come il numero 20. Poi un liquicino, un fogliettino per le istruzioni, quindi fare il tutto anche se lo fate da sole. Proprio perché se lo fate da sole avete anche la possibilità di avere dei guanti e quindi stare proprio nel mood parrucchiere, nel mood igiene, e quindi sempre ottimo averne. Ed infine abbiamo questo prodottino qui, che non è alto con trattamento, ristrutturante con il 98% di ingredienti naturali. Anche questo qui, vedete? Ed è carino anche la boccettina. Guardate, questo, c'è la grandezza. 40 ml. Il prodottino di 40 ml. È fantastico. Quindi cosa dire? Che questo prodotto, andiamo a provarlo insieme. Sono curiosa del risultato anche perché c'è tutto quello che io vorrei. 98% di ingredienti naturali. Andiamo a coprire i capelli bianchi, ma a dare un effetto naturale, luminoso. e quindi andiamo a provare. Deve essere così, ma un po' più chiaro di questo. Quindi il risultato, in realtà dovrebbe venire nel mezzo di questo e questo. Ma andiamo a vederlo subito insieme e noi ci vedremo, ovviamente, dopo, con il risultato fatto. Ciao. Eccomi qua. Questo è il risultato finale. Vedete? Sono rimasta proprio con il mio colore di capelli. Sembra di non averlo fatto, però in realtà siamo andati a coprire i capelli bianchi che non ci sono. più. Quindi sono rimasta soddisfatta di questo colore. Ho sentito subito l'idratazione ai capelli. Quindi guardate che effetto fa. E devo dire che il riccio è rinato, soprattutto che è passata l'estate. E siamo in autunno, quindi il capello è finalmente. È stato idratato, è definito e soprattutto tinto, ma allo stesso tempo in effetto naturale. Quindi, chi vuole il colore suo, naturale, e vuole quelli soltanto i bianchi, questo lo consiglio, straconsiglio, anzi, vi metterò il link qui sotto del prodotto. Ovviamente, se vi è piaciuto il video, lasciatelo anche qui sotto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo prodotto e se l'avete già utilizzato. E soprattutto, non dimenticate di iscrivervi al canale per non prendervi nessun mio video. E noi ci vedremo sicuramente ad un prossimo video. Ciao!